Ragazzi sono in un taxi senza autista, non c'è trucco e non c'è inganno, non c'è nessuno che sta guidando! Eccola qua, questa è la macchina, vedete, ha tutti i sensori, è di Waymo, ex Google Car, questa è l'applicazione, adesso la proviamo. Bene, quindi mettiamo la cintura, qua c'è un display, good afternoon, ok ok ok, start ride, chiude la porta. Guarda, non c'è nessuno che guida, sono teso, è partita, è partita, è partita, ragazzi sono su una macchina senza autista, ha messo la freccia e si è spostata sulla corsia. Qua c'è lo schermino che ha dato tutte le informazioni e vede le altre macchine, attenzione svolta a sinistra, pulito, perfetto, super, brava Waymo, siamo arrivati, sono vivo, assurdo, veramente assurdo.